25 marzo 1957, con i trattati di Roma, l'Europa Unita mette fine a un passato scritto col sangue e firma una storia tutta nuova, la stessa che il 10 dicembre porterà i tre presidenti dell'Unione a ritirare il Nobel per la pace. Ci abbiamo messo 55 anni a percorrere la strada per Oslo, l'abbiamo fatto tutti insieme, con la volontà di 27 paesi e di 495 milioni di persone, 495 milioni di premi Nobel, compreso te. Grazie.